Una rimonta così non si vedeva da un bel po' di tempo. Casertana indenne a Torre del Greco nel big match della seconda giornata del Gironei. Dopo un primo tempo da rivedere, i rosso-blu si sono rimboccati le maniche e nella ripresa si è giocato in una porta sola. Un segnale forte, la squadra l'ha dato, il gruppo è compatto e l'allenatore è un vincente perché sotto di due gol ha cambiato assetto e i risultati si sono visti. Novità di giornata l'inserimento di Pontillo dal primo minuto nel 4-2-3-1. In difesa spazio all'esperienza di Parisi in coppia con Miale, mentre tra i pali debutta Di Matteo. 20 secondi e i corallini si affacciano in area avversaria con un tentativo di Jovene bloccato a terra. Due minuti e gli ospiti vanno vicini al vantaggio, con Sarli che approfitta di una maldestra uscita di Prete e a porta libera conclude a botta sicura. Interviene Abaldo che intercetta la conclusione e l'azione sfuma. Ancora Falchetti pericolosi con Sergi che colpisce di testa sul suggerimento di Stigiano, facile per l'estremo difensore. I biancorossi sfruttano la velocità sulle fasce, al diciottesimo Rinaldi si ritrova il pallone sul destro ma da posizione centrale alza troppo la mira e sfera alle stelle. Il vantaggio però è maturo e giunge con un'invenzione di Polverino che si incarica di battere una punizione, nulla da fare per Di Matteo. La rete galvanizza tutto l'ambiente che spinge i corallini al raddoppio. Difesa rosso-blu immobile su angolo di Maiella, Abaldo anticipa guida e fa 2-0. Cioffi cambia subito, fuori lo stesso guida e cordua, mentre dentro Cappiello e Bocchetti passando ad un più ordinato 4-4-2 variabile nel 4-3-3 in fase di possesso. Bisogna però attendere il nono della ripresa per vedere gli effetti sperati. Dopo il cambio Giglio dell'avventura, Stigiano mette al centro dalla sinistra. Sergi tocca per Sarli che con la deviazione di Adaldo fa secco prete. Match riaperto, passano altri 10 minuti e Sarli pecca di ecoismo non servendo Giglio tutto solo sulla destra. L'attaccante calabrese chiede 5 giri di lancetta e più tardi un penalty ma Casalucci di Lecce lascia correre. In campo i casertani sono padroni e raggiungono il pari poco dopo la mezz'ora quando Sarli crossa e nella mischia spunta Miale che da due passi tutto solo non sbaglia. I locali accusano il colpo e riescono solo a chiedere un rigore per un dubbio falo di mani in aria. Quattro minuti di recupero poi il triplice fischio sancisce la fine di un incontro che per la casertana vale come una vittoria. Domenica c'è il Marsala al Pinto. Questi ragazzi meritano l'abbraccio dei propri sostenitori.